Benvenuti, vi presento dei modi economici per realizzare dei burettini. Per il primo ci occorrono palline da ping pong, beccucci del sac a poche, sacchi di plastica del colore che preferiamo. La pallina può essere colorata sfumando un tocco di rossetto. Tagliamo il sacchetto in modo da praticare tre cuori in corrispondenza delle nostre dita, indice, pollice e medio. Fissiamo la testa con del nastro calva. Ecco il burattino veramente e super economico. I prossimi burattini sono fissati a dei mestoli di legno. L'idea per fare le facce mi è venuta al supermercato. Indovinate cosa ho utilizzato? Delle solezze costruire le donne al supermercato del nostro video! Grazie a tutti! A presto città, vi ringrazio.